Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Antonella, ha trascorso una notte che difficilmente scorderà. Dall'entusiasmo iniziale per la sua prima serata in discoteca, dove ha incontrato decine e decine di suoi fan, al grande spavento. Come spiegato in una storia Instagram questa notte infatti dei ladri hanno tentato di fare irruzione nella sua abitazione a Milano. Questa mattina infatti la fidanzata di Edoardo Donnamaria ha pubblicato una storia su Instagram che ha ovviamente spaventato anche i follower. Io sono sempre più scioccata. Vado a fare una serata e i ladri cercano di fare irruzione a casa mia a Milano. Vergogna il messaggio rabbioso della showbri campana che ha legato uno screen delle chiamate perse, tra cui figurano due allarmi scattati intorno alle 5 e 30 del mattino. Per fortuna tutto si è risolto soltanto con un grosso spavento, con i malviventi che dunque non dovrebbero essere riusciti a varcare la porta d'ingresso. Il triste episodio ha dunque spaventato la bellissima Antonella, reduce da una serata di grande divertimento, entusiasmo e abbracci con i suoi fan a Verona. Il tutto come sempre raccontato ai follower via Instagram. Ma la Fiordelisi non si è persa d'animo e già questa mattina si è mostrata entusiasta sui social, servendo la colazione al suo Edoardo Donnamaria, ancora mezzo dormiente nel letto. Te la sei meritata per avermi accompagnata. Infatti l'ex Geffino non ha mai mollato il fianco della fidanzata, neanche ieri sera in una serata ricca di gioie e volata via tra le risate per l'ex schermitrice. Almeno fino al procurato allarme.